Tra passato e futuro si scopre la versatilità di una regione, le marchi. Imprese leader si affiancano a piccole realtà produttive, manifatturiere ed artigianali. Da un passato di mezzadria ad un modello di sviluppo economico basato sui distretti di piccole e medie imprese, altamente flessibili e specializzati, evoluti ora in sistemi locali aperti al globale. Un'economia solida e articolata, pensata col senso di responsabilità, che sa legarsi alle esigenze sociali del territorio. Crea benessere, marchi prestigiosi conosciute in tutto il mondo per l'alta qualità. Tra le prime 15 regioni d'Europa più industrializzate, le marche con le sue oltre 180.000 imprese, una ogni 9 abitanti, esprimono la dinamicità del tessuto economico regionale. Con 27 distretti, detengono il primato nazionale quanto a poli produttivi. Università e quattro centri di trasferimento tecnologico, che sostengono le imprese favorendo processi di innovazione, internazionalizzazione, ricerca e certificazione di qualità. Una regione protagonista per specializzazione e qualità nei settori più prestigiosi dell'economia internazionale. Calzature, legno e mobile, abbigliamento, agroalimentare, meccanica, cantieristica, maestri di progettazione a livello mondiale nelle telecomunicazioni, nei cartoni animati e produzioni multimediali, nei giochi di intelligenza e didattici, ma anche ingegno prestato all'illuminotecnica, all'elettronica, alla farmaceutica, alla lavorazione dell'argento e dei preziosi, alla creazione di articoli religiosi, strumenti musicali.